Fortissimi venti, neve, gelo e blizzard, questo non in Italia ma a due passi dall'Italia. Succederà nei prossimi giorni sul centro nord Europa e sulle aree settentrionali. Correnti gelide ma allo stesso tempo molto umide, provocheranno nevicate diffuse fin sul mare. Da prima saranno interessate le città di Edimburgo, Belfast, Dublino ma anche Liverpool, Manchester e poi la neve potrebbe arrivare fino a Londra. Ma poi tra domenica, pomeriggio e lunedì la neve arriverà ad Amsterdam, Bruxelles, Berlino, Varsavia e poi Oslo e Stoccolma. Ma tra lunedì e martedì saranno imbiancate anche Parigi in Francia, ma anche poi Zurigo, Stoccarda, Francoforte e Monaco di Baviera, Vienna, Praga per poi finire a San Pietroburgo. In Italia invece la situazione sarà ben diversa. I dettagli sul sito www.metogiuliaci.it e nella nostra app.